Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che riguarda una trattativa che io vi ho raccontato già negli scorsi giorni. Ora siamo ormai proprio... questo video viene girato qualche giorno dopo il primo, nel senso che abbiamo già fatto, abbiamo parlato che ho girato l'altro, e è ufficiale ormai, c'è stata l'importante firma negli ultimi giorni, di un giocatore ufficiale ormai che è Mazur, questo giocatore molto importante che è arrivato da noi e che secondo me deve assolutamente essere analizzato, deve essere visto, vi dobbiamo ripetere un po' di cose. Allora, perché rifaccio un video su Mazur? Perché Mazur è un giocatore di cui secondo me noi lo stiamo un po' trascurando, stiamo un po' comportando non bene con Mazur, perché Mazur è un grande talento, è un giocatore che sinceramente parlando è arrivato qua da una squadra danese ed è qui proprio per dimostrare a se stesso che comunque può diventare, può essere, insomma può essere veramente grande. Io ve lo presento un po' ma vi racconto anche delle cose su di lui, quindi andiamo anche un po' a fare un ordine un pochino sul giocatore. È arrivato proprio negli ultimi giorni della sessione, insomma, del mercato, perché la Juve, insomma, stava cercando di prendere giovani qui e lì e la nostra aree, insomma, che ha preso Mazur. Ora, piano piano ne parliamo, vi metto a conoscenza un pochino di questo giocatore, vi parlo un po' di lui, ne parliamo un pochino insieme in modo tale che ci facciamo un pochino di ordine, va bene? Ovviamente, prima di iniziare, cosa dobbiamo fare? Come al solito andare qua sotto, clicca ovviamente su iscriveri, mettere ovviamente un bel like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, sta cosa della campanellina, ragazzi, perché vi spiego subito. Se voi non attivate la campanellina non mi arrivano mai gli affisi, quindi se vi va e volete continuare a vedere, a commentare, basta attivare la solita campanellina e se vi va potete, ovviamente, anche seguirmi sui social. Allora, quando io per la prima volta ho visto giocare a Mazur, questa è una cosa che, insomma, devo dire assolutamente. Io sono rimasto un po' così, sai, come quando guardi qualcosa che ti lascia un po' imbambolato, no? Perché ho visto in lui tanto talento. Questo ragazzo deve ancora fare 18 anni, quindi può essere che da qui a qualche anno può essere che questo ragazzo possa diventare qualunque tipo di giocatore, cioè non è aperto a varie interpretazioni. Però per adesso il giocatore è veramente interessante. Perché? Innanzitutto lui è nato mediano. Cioè all'inizio della sua carriera lui è nato mediano perché aveva questa tendenza, a parte molto alto, molto grosso fisicamente, quindi cosa hanno fatto? L'hanno preso, l'hanno messo davanti alla difesa, gli hanno detto fai il mediano e lui ha imparato a fare il mediano. Poi man mano che passava il tempo questo ragazzo ha cominciato a far vedere delle cose dal punto di vista tecnico veramente molto interessanti. Cioè aveva questo modo di giocare molto diverso rispetto allo stile tipico che gli avevano detto perché loro gli hanno detto, all'epoca, gli avevano detto nella squadra giovanile in cui giocava fai il mediano ma preoccupati più che altro della fase di andare a coprire. quindi tu devi coprire la zona davanti alla difesa e lui lo faceva tranquillamente, copriva, prendeva palla, la rubava, rifaceva le partite nazionali, faceva tutto quello che faceva un mediano. Poi a un certo punto ha cominciato a fare delle cose strane con la palla, giochi di prestigio, faceva dei lanci millimetrici, cioè faceva non il mediano di copertura, ma faceva proprio il giocatore che aiutava la manovra. E quindi in una delle partite gli hanno detto proviamo una cosa, va a fare il centrocampista centrale. Cioè da mediano io ti sposto al centrocampista centrale e da centrocampista centrale qui si è trasformato, diventato un giocatore totalmente diverso perché ha cominciato a giocare a calcio in maniera molto più libera, molto più sopra, tra l'altro entra in aria con questo fisico che c'ha, sembra di vedere un armario che cammina, praticamente enorme, sgomita in mezzo agli avversari, toglie comunque la palla, quindi ha questo fisico importante che all'interno del campo lo aiuta moltissimo, ma comunque riesce ad eccellere in entrambi i ruoli. Quindi lui è iniziato da mediano difensivo, però in realtà può fare anche il centrocampista centrale che va davanti. Quindi è un giocatore veramente molto interessante. Perché dico che lui potrebbe diventare veramente uno di quelli che diventa da prima squadra? Perché, diciamoci la verità, noi stiamo vedendo adesso all'interno di varie situazioni, nel calcio moderno stanno cambiando tante cose, va bene? Nel calcio moderno purtroppo tante cose sono diverse rispetto a tanti anni fa. Il centrocampista centrale tipico di oggi, chi è? Cioè quali sono i centrocampisti centrali che oggi hanno, o anche i mediani, sto parlando in generale, quali sono i centrocampisti che oggi hanno la maggior parte del favore? Cioè quali sono i migliori che tu hai a disposizione? Se tu guardi a livello europeo, dai un'occhiata lì davanti a livello europeo e dici voglio elencare i centrocampisti che negli ultimi anni hanno rappresentato sicuramente alcuni dei migliori nel ruolo. Ti vengono in mente tutti i giocatori che se tu ci pensi sono tutti giocatori dotati di... Dicevo ragazzi, come che mi si interrompesse un pochino il video, che questo ragazzo ha delle qualità. Allora tu, quando guardi i centrocampisti a livello europeo che negli ultimi anni hanno avuto un grandissimo successo, tu hai fatto caso a una cosa? Cioè ti sei reso conto che questi centrocampisti hanno tutti delle qualità simili? Cioè sono tutti tecnici, quindi tutti bravi tecnicamente, però sono anche bravi fisicamente. Cioè hanno creato uno stile di gioco molto molto moderno perché fino a qualche anno fa, Dio, forse anche una ventina d'anni fa, c'erano anche centrocampisti che avevano successo nel mondo del calcio, che avevano un fisico non esattamente diciamo scolpito. E perché? Perché il calcio era diverso, il mondo del calcio era diverso, lo stile di gioco era diverso, quindi contava molto di più diciamo il giocare guardando il campo che nel correre. Oggi purtroppo se tu vuoi fare il giocatore, quindi vuoi fare il calciatore professionista, la componente fisica è diventata molto molto più in giro, quindi è diventata anche molto forte. Quindi se tu fai il centrocampista centrale, attenzione a quello che ti dico, o fai il mediano difensivo, raramente ti puoi permettere di avere un fisico non all'altezza. Il fatto che i migliori giocatori a centrocampo degli ultimi anni siano tutti giocatori fisici dove fisico non si intende fisico alto o grosso, non necessariamente, non solo quello. Fisico vuol dire anche avere una buona struttura muscolare. Ti faccio un esempio, tu prendi De Bruyne che è un giocatore che gioca prevalentemente dietro le punte e centrocampista centrale, no? Però De Bruyne non è un centrocampista che ti dà una grande fase di copertura, De Bruyne è un giocatore che ti dà una grande fantasia. Però De Bruyne non è piccolo, non è minuto. De Bruyne ha lavorato il suo corpo, no? Ha una buona fisicità, cioè se De Bruyne si deve usare il fisico lo può usare e poi è bravissimo perché De Bruyne è clamorò, quindi è una cosa impressionante. Ti potrei dire il nome, ma anche tanti altri nomi di centrocampisti centrali fisici che negli ultimi anni hanno avuto successo. È inutile che io vi li dica, tanto li conoscete tutti a memoria sono quelli che vi piacciono di più, ok? Quindi Mazzur per tornare a questo ragazzo ha tutte le qualità tecniche e fisiche per diventare veramente un grandissimo giocatore perché ragazzi guardate che è difficile emergere nel mondo del calcio di oggi in un contesto come questo. La gente pensa che la Juve viene alla Juve, diceva vabbè va alla Juve. Alla Juventus se tu rendi vai avanti, se tu non rendi ti vanno fuori, nel senso ti prendono e ti vendono subito o ti portano via. Quindi è normale che da questo punto di vista io abbia e debba valutare bene il ragazzo. Per me, per quello che vedo e per quello che sto vedendo il ragazzo ha delle qualità veramente importanti, cioè per me il giocatore fisico è rapido, ha delle buone qualità dentro l'area, per quanto mi riguarda può diventare veramente un buon talento. Poi da qua a dire che sto giocatore può diventare un giocatore straordinario non lo posso dire, ma non lo posso dire perché bisognerà vedere anche lui come sta, perché se un giocatore ha tutte le qualità del mondo però a livello mentale poi non dà, non regge, cioè se tu non reggi mentalmente io non mi posso, non ti posso dire sì è bravo però muovi mentalmente perché tanto non regge e quindi trovate ragazzi ma la voce oggi è proprio andata a farsi è proprio andata via ecco da questo punto di vista eccetera eccetera quindi è un giocatore che io ribadisco e vado a ribadire tendo a ribadire ha delle qualità veramente importanti e mi dispiace che qualcuno lo abbia dimenticato perché questo è un acquisto che per l'iniziatore giovanile è molto importante poi è logico ragazzi che io mi rendo perfettamente conto che non c'è modo da questo punto di vista di avere la stessa qualità di un acquisto normale nel senso se arriva un giocatore per la prima squadra tutti noi siamo così focalizzati se arriva un ragazzo giovane noi non siamo così focalizzati ma perché questa cosa te la dico perché noi stiamo investendo tanto sui giovani cioè stiamo spendendo parecchi soldi per andare ad investire sui giovani e quindi credo che sia giusto comunque andare a formare cioè andare a comunque a prenderli a giocarli bene questi ragazzi perché altrimenti poi se questi ragazzi tu li prendi non li metti in condizione per me è folle cioè lui comunque ha delle qualità incredibili io mi meraviglio di chi dice il contrario perché veramente ha delle qualità straordinarie veramente ha ottime qualità sotto tutti i punti di vista secondo la mia modestissima opinione ho tutte le doti per diventare un giocatore di livello ma ovviamente tutto questo può essere solamente fatto con lavoro nel senso è inutile che io ti dica adesso è bravo ma non è che il suo processo di sviluppo si è fermato a 18 anni poi c'è anche i suoi come dici ci sono anche delle cose su cui deve lavorare bisogna lavorare su tante cose però per quanto mi riguarda per quello che è e per quello che ho visto in campo io ti sto parlando di un giocatore che ha ottime doti ripeto mi meraviglio di chi non le veda cioè mi meraviglio davvero di chi dice che Mazzur è un acquisto come un altro è un acquisto da due soldi per me è un ottimo acquisto è un ottimo giocatore ripeto viene da un contesto in cui gli veniva chiesto di fare una cosa diversa dalle sue qualità capito io dico sempre che i giocatori sono un po' come i bambini vanno lasciati correre perché se tu il bambino gli metti un freno che fa il bambino poi si incattivisce diventa capriccioso ok invece il bambino come il giocatore il giocatore giovane va lasciato libero va fatto crescere perché se tu il suo giocatore ci metti una corda al piede e lo leghi vicino a un palo e gli dici no devi fare solo questo e basta il giocatore non potrà mai arrivare ad avere un processo coerente capite qual è il discorso cioè capisci capisci che le cose sono cioè no 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 facciamo un discorso diverso è una questione anche di intelligenza cioè è una questione anche ragazzi di estrema intelligenza a mio modestissimo avviso quindi fatemi sapere un pochino fatemi sapere un pochino cosa pensate voi cioè voglio sapere voglio conoscere un pochino quali sono le vostre opinioni perché ragazzi secondo me bisogna lavorare su questo ragazzo poi ditemi un pochino cosa ne pensate se l'avete visto giocasse lo conoscete se sapete chi è perché vedo che molte persone lo sanno molte persone invece non lo conoscono quindi fatemi sapere un pochino nei commenti il vostro parere quindi Grazie.